Stretta sulla movida selvaggia sul litorale di Fiumicino, Focene, Freggene, Maccarese e Passo Scuro. Massimo 400 persone a festa, tranne in alcune località dove il limite è fissato a 300 e musica dalle 19. Lo prevede la nuova ordinanza balneare che stabilisce le regole legate alle attività balneari nelle località della costa. Confermata anche la spiaggia dei naturisti a Focene per gli amanti della tintarella integrale. Abbiamo fatto questa ordinanza per regolare la movida perché in questi anni abbiamo visto che c'è stato molto caos. Ci sono anche dei verbali delle forze dell'ordine, delle altre che hanno raccolto ragazzi in coma etilico, anche che avevano subito delle aggressioni. Quindi molto attenti all'incolumità del cittadino, quindi è stata molto restrittiva. Però non siamo bigotti, nel senso che ci sono delle deroghe sugli eventi, ma devono avere delle caratteristiche sulla sicurezza. Quindi devono garantire la sicurezza all'interno e all'esterno del locale. Ci può fare una sintesi delle regole? Le regole sono state studiate in base alle località, proprio perché c'è molto caos per quanto riguarda i parcheggi. Purtroppo la viabilità non sopporta tanta gente e quindi ci sono delle restrizioni di un massimo di 400 persone a secondo le località. Per esempio Passo Scuro ce n'ha 300 e anche lì però si stanno prevedendo alcune deroghe. Poi viene confermata la spiaggia per i naturisti? Sì, è stata confermata in località Focene perché crediamo che il mare giustamente ne possano usufruire tutti, anche i naturisti, ma abbiamo anche le spiagge per il kitesurf. Ci può fare un primo bilancio dell'applicazione di questa ordinanza? Io direi che i cittadini dovrebbero essere soddisfatti perché quando si parla di sicurezza si parla comunque di un tema molto serio. Quindi quando si stabiliscono e si utilizzano degli strumenti per garantire la sicurezza, questo vale per tutti, sia per chi si vuole divertire e sia per i cittadini che vogliono invece tranquillità. Quindi questa è la regola e quello che è successo in questi weekend sono state queste task force tra guardia di finanza, polizia, carabinieri e polizia locale che sono intervenute in momenti abbastanza anche importanti e hanno fatto le dovute multe a chi ha superato e non ha ottemperato a quelle che erano le regole stabilite. Grazie.